È terminato da pochi minuti l'incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il primo ministro libico Fayez al-Sarrai. Un incontro che segue di meno di 24 ore la stretta di mano tra lo stesso al-Sarrai e il leader della Cirenaica, il generale Khalif Haftar, sotto lo sguardo del presidente francese Emmanuel Macron. Una stretta di mano che ha siglato l'intesa raggiunta tra i due ieri pomeriggio a Parigi. Annuncia il cessato il fuoco e la rinuncia all'uso delle armi tra le fazioni in lotta, ma anche la comune lotta al terrorismo e al traffico di esseri umani. L'accordo prevede anche la celebrazione di libere elezioni a primavera nel contesto degli accordi patrocinati dall'ONU e la smobilitazione delle milizie ancora attive nel Paese. Un successo diplomatico per Macron che ha però riconosciuto il lavoro svolto dal nostro Paese e dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Un passo avanti, quello sul fronte libico, salutato questa mattina con soddisfazione anche da Gentiloni che dopo l'incontro ha ringraziato al-Sarrai e tutti coloro che hanno cooperato al raggiungimento dell'importante accordo. Un'intesa che apre interessanti prospettive anche nella lotta al traffico di esseri umani. Su questo fronte un riconoscimento del ruolo italiano è giunto anche dal presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, che ha scritto a Gentiloni annunciando la creazione di una task force europea permanente con 500 esperti per i rimpatri e un finanziamento d'emergenza di 100 milioni di euro a sostegno dello sforzo italiano. Intanto, a largo di Tripoli si continua a morire, altre 13 persone sono morte nel tentativo di attraversare il mare. I loro corpi sono stati trovati senza vita sul fondo di un gommone durante un'operazione che ha permesso di salvare 167 migranti, tra i quali molte donne, madri e bambini.